Ciao a tutti, sono Eric Tulisse, batterista dei dolcetti. Sono batterietama e grazie agli amici della Mogar ho avuto l'occasione e la fortuna di provare la nuova serie dei rullanti SLP. Ovviamente fra questi 8 rullanti ce ne sono 4 che mi sono piaciuti a bestia e quindi ho pensato di farveli sentire singolarmente suonando prima un groove senza la musica e poi un groove insieme a una base musicale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!